Il problema grave è che le persone che hanno occupato i banchi, erano persone preoccupate. Secondo me dobbiamo fare una distinzione fra quello che è il fenomeno dell'accoglienza e della solidarietà, perché non vorrei che passasse il messaggio sbagliato, che i cittadini non vogliono i profi. No, ci sono delle realtà veramente pesanti, ci sono persone che fuggono da situazioni veramente incompatibili con la vita umana, ci sono famiglie, ci sono bambini, soltanto per darvi un dato, nel mare Mediterraneo sono morte nel 2015 oltre 3.700 persone, di cui si parla 7-800 bambini. Facciamo attenzione, quindi sì, accogliamoli, ma da quell'altra parte il nostro governo nazionale e quello poi, anche quello sopra, diciamo, quello europeo, devono iniziare ad attuare una politica determinata alla risoluzione del problema. Quando si riporterà in Consiglio Comunale adesso? Ora mi consulterò con i capigruppo e insieme sceglieremo tutti una data. Grazie.